Ruba generi alimentari da un supermercato ed una volta scoperto riesce a fuggire ma viene comunque reintracciato e denunciato a piede libero dai carabinieri. È successo a Montevarchi. L'uomo, un 53enne domiciliato in Valdarno, è stato infatti sorpreso dalla vigilanza della struttura mentre tentava di non pagare la merce nascosta nel carrello sotto altri prodotti dopo aver oltrepassato le casse. Quando ha capito di essere stato scoperto, il ladro si è allontanato, precipitosamente dal supermercato, portandosi dietro la rifurtiva e facendo così perdere le proprie tracce. I militari, una volta acquisiti i primi elementi indiziari, poco dopo lo hanno rintracciato, identificato e denunciato. Il 53enne adesso dovrà rispondere di furto aggravato, recuperata dai carabinieri anche la merce rubata che dopo essere stata riconosciuta dal responsabile del negozio è stata restituita al direttore del supermercato.